Ciao ragazzi, in un video oggi siamo in nuovo il giorno, che io una volta l'ho portato a casa vecchia, l'ho portato a questo qua, youtube live. Io una volta l'ho lasciato perdere questo gioco, non mandava per giurarlo, l'ho chiusato a perdere, e l'ho portato quando ero, ero tipo altissimo inscritto, quando ho portato a questo gioco, e non lo so quando l'ho portato, l'ho portato quando non lo sapevo, quando mi è inscritto, l'ho portato poi. Io non mi ricordo con un cazzo di quel gioco, perché sono anni che non ci gioco. Sono anni proprio. Ah, sono rimasto qua. Che è la mia scritta? Mamma mia. Ah, c'è solo, eh. C'è l'hai che ricordi a quel gioco, io ci gioco a mezzanotte a quel gioco, perché io volevo arrivare a un milione a quel gioco. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mi piacera un po', il gioco. Cioè, perché... era bui carino il gioco perchè era bello il gioco un bui carino il gioco video ok vai C'è come io i video, cioè non è forte l'utile, è forte e male la morte ai video, va bene, caro mio, c'è fame, ma mangiamo qualcosa? Allora, un dog, l'acqua, vai, mangiare, lo mangiare, è scena, vai, e vai a giocare, vai, lavoro, gimme, Mamma mia, ah, però giocava, ah, Noi, mi piace un gioco perché è ferita, ragazza mia dice che è ferita, so meglio, ma va a far culo, Allora, no, vai, andiamo su shopping, andiamo a comprare qualcosa, Amazon, allora, Compriamo questo, e questo, ok, mi piace il gioco, quindi, devo usare il piccolo, che forse me lo romperà poi, Oh, io, eh, il gioco Perfetto Allora 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 questo video non è no fake vai non è fake questo video cioè io son già lo conosce un garazzo questo gruppo mamma mia che è troppo bello questo gioco vai non è vero, non è vero vai uuuh dai eh vengomi guarda che sei in caccomodo vai eh l'amica mia è così che ha gommiche 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 e poi gli registro i migliori ah l'amica mia non è bambino acqua che fa bene di voi vai vai ok 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 non è oh oh filmò video e vai 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 non mi ha avuto ok 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 e viga e così e così ok oh ok oh mamma mia oh 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 to di me per pop aqua Acqua! Acqua e pane! Sono povero! Ma che cazzo? Non sono povero io! Eh, ma non posso mangiare panni acqua! Non so qualcosa! Panni acqua! Sono povero! Ma che cazzo? Ok. Andiamo su... Controlla! La uscina il 3 box! Il 3 box! Vai! No! Non posso farvela! Allora, ci fai... E... Oh! Gli vengo 10! Gai! Allora... Che mi manca? Che mi manca? Ah... 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 Ero cazzo! Il volovere! O che? O che i compri? Que... la parla i passaggi vai vai no guarda compro solo ok parla la veglia ma non gioco vai e poi vai a gommila vai pagli acqua ma sono povero ma che cazzo ma che cazzo mi fai raggio 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 ma che cazzo mi fai raggio mi fai raggio ma che cazzo ma che cazzo Grazie a tutti. Andiamo subito a finire il gioco. Oh, è una maglietta più bella, dai. Vai. No, io ce l'ho comprato. Vai. Allora, vedi? Così li porti. Così. Chi è? Che stile. Però se sarà perla. Chi è? Allora, arrivo a chiara. Poi proprio mi accogliono. Oh, un nuovo gioco. Su Piazza 2. Mamma mia. Oh, vuoi un luogare. Eccolo... Eccolo... Ecco. Ecco. Non c'è l'acqua? Alla prossima. 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 Alla prossima.